Con tre voti favorevoli dei commissari di maggioranza presenti, Chiacchieroni, Locchi, Mariotti del PD e tre astenuti dell'opposizione, De Sio, Fratelli d'Italia, Rosi, Nuovo Centrodestra e Nevi Forza Italia, la seconda commissione consigliare, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, determinante il suo voto, ha dato il via libera al disegno di legge della Giunta regionale, che detta nuove norme per la tutela dei consumatori e degli utenti e che va ad adeguare l'attuale disciplina dettata dalla legge 34 dell'87, che verrà quindi abrogata. Si punta ad individuare strumenti a sostegno di interventi di informazione ed educazione del consumatore, attraverso misure ed azioni utili ad aprire un nuovo dialogo tra Regione e consumatori e quindi con le associazioni, prevista all'istituzione del Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dove per farne parte, da avere il riconoscimento, dalla Regione, ed usufruire così dei fondi destinati, le associazioni dovranno disporre, tra l'altro, di un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille dei residenti in Umbria, distribuiti in almeno sette comuni. Obbligatoria sarà la presenza di almeno quattro sportelli sul territorio regionale, gestiti in maniera autonoma o coordinata tra più associazioni, ed ogni sportello dovrà essere aperto almeno una volta a settimana. Altra realtà sarà la consulta regionale dei consumatori e degli utenti, della quale faranno parte l'assessore regionale competente in materia, che la presiede, rappresentanti di ogni associazione iscritta, delle camere di commercio, delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative della commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'ECAL, dell'Università degli Studi di Perugia, dell'Università per stranieri, dell'assessorato regionale competente per materia. Altra novità, la partecipazione dei cittadini al sistema di controllo di qualità dei servizi pubblici locali.